Dea di secondo livello, nulla da fare. Dietro fronte dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, secondo cui quattro ospedali dei capoluoghi di provincia non hanno le caratteristiche richieste dal decreto Lorenzin, almeno finché non saranno inseriti in una rete funzionale, differenziandoli cioè a seconda del trauma o della patologia complessa. Non ci saranno quindi il maxiospedale dell'Aquila e Teramo e quello di Chieti e Pescara. I nosocomidi verranno quindi presidi di alta complessità, il che significa che del secondo livello avranno le funzioni, ma non il tanto agognato nome. La rete ospedaliera sarà sottoposta all'esame del tavolo di monitoraggio il 27 novembre. Ogni ospedale non contiene tutti quelli che sono i requisiti, sia strutturali ma soprattutto anche in campo di unità, di dipartimenti che possono dare quelle risposte adeguate, per cui noi creiamo queste alte complessità e poi riattiviamo anche gli ospedali che sono periferici. E sulla questione arriva l'attacco dell'ex assessore alla sanità Paolucci, per il quale la maggioranza non sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale. Non ci sono i di più rispetto alla rete ospedaliera che avevano promesso, sbandierato con Salvini che faceva di piazza in piazza e frequentava le nostre città e al contrario si riparte dal piano precedente, quindi nessun di più rispetto alle strumentalizzazioni e alle promesse del passato. Paolucci solleva anche il tema delle nuove assunzioni e chiede che fine hanno fatto i soldi stanziati per gli ospedali dalla precedente giunta. Tra l'altro c'è un immobilismo tale per la paura di scegliere e di dire la verità agli elettori, ovvero che appunto li si è ingannati, che si bloccano le assunzioni e i 400 milioni di euro che noi abbiamo messo a disposizione e che sono trasferiti alla regione per costruire i nuovi ospedali, lo ricordo, in una regione fortemente sismica. Non finiscono qui le novità che riguardano la sanità abruzzese. La Verì infatti ha dichiarato che nascerà un'azienda unica territoriale di tutta la regione a cui faranno riferimento le quattro ASL.